Conviene iniziare ad approcciarsi al TCG di One Piece nel 2024? Quali saranno i punti di attracco migliori per dare il via alla propria avventura per i mari? E risulterà costoso recuperare il necessario per essere competitivi sia sul lato giocato che collezionistico? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Da quando ho iniziato a trattare il GCC a tema piratesco, diversi appassionati e curiosi mi hanno chiesto se convenisse iniziare a giocare o collezionare e da dove. Attualmente sono uscite per il nostro mercato 6 set, un'espansione intermedia e ben 13 starter, mentre in Asia si trovano già ad OP07 e stanno giocando nel meta che noi vedremo direttamente dal mese prossimo. Quindi, per chi vuole giocare o collezionare, da dove converrebbe iniziare? Di certo le scelte come al solito sono innumerevoli, utilizzare un leader piuttosto che un altro, raccogliere un personaggio nello specifico, dedicarsi al recupero di opere realizzate unicamente da un determinato artista e via discorrendo. Nel video odierno quindi andremo a prendere in considerazione le due categorie dei curiosi, fornendo un punto di vista che potrà tornare utile anche per chi vorrà dare il via alla sua avventura tra le profonde acque dell'oceano. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che, in media, il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto, si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i concetti di base da prendere in considerazione se si vorrà iniziare a navigare nel TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. Giocatore Partiamo dalla categoria che personalmente mi rappresenta. Giocare al TCG di One Piece può essere piuttosto facile e di soluzioni economiche per le new entry ce ne sono differenti, anche piuttosto competitive a mio avviso. Nami Monoblue, Reju, alcuni starter deck e le diverse soluzioni che set dopo set si alternano creando un tematico dedicato al titolo di riferimento possono tornare utili a chi vuole mollare gli ormeggi su due fronti ben distinti tra loro ma allo stesso tempo correlati. Il primo, essendo leader relativamente budget, possono introdurre nel vivo tutti coloro che vogliono testare le dinamiche di questo TCG valutando infine se può risultare interessante o meno continuare la propria avventura. Il secondo, questi deck risultano stazionare quasi sempre nella parte alta della tier, Nami in primis, ma anche Uta Monoverde che ha una base di partenza eccellente grazie allo starter a lei dedicata, dove dovrete integrare unicamente le Nami film che potranno essere recuperate ad 8 euro di media per singola copia e i mioc presenti nello starter di San Gizzoro reperibili a 6-7 euro circa sempre per singola copia. In descrizione vi lascerò i link che vi riporteranno alle rispettive liste così da dare uno sguardo di persona alla struttura degli interi deck che potranno essere testati sul simulatore ancora prima di essere acquistati. Infatti un consiglio che do sempre a chi è intenzionato di iniziare è il seguente. Se si ha la possibilità di provare un deck gratuitamente su una piattaforma online per capire nel migliore dei modi se può fare al caso proprio, magari salvaguardando le finanze a disposizione per un altro archetipo che contro tutti i pronostici alla fine si è rivelato quello che invece gira meglio, perché non utilizzarla allora? In più recandovi nella vostra fumetteria di fiducia potrete chiedere ai corsari già navigati, presenti in loco, cosa converebbe fare per iniziare e vedrete che confrontandovi con loro riceverete numerosi feedback lasciandovi infine l'imbarazzo della scelta. Collezionismo Qui a differenza del lato giocato la situazione sarà piuttosto semplice da approcciare ma non per questo saranno presenti ulteriori due fonti da tenere in considerazione. La prima ovviamente è quella dei prodotti sealed come i primi quattro starter dentro la teca che potete osservare alle mie spalle o i box di espansione OP01, 0203 eccetera. Ora si pone la prima grande domanda, articoli inglesi o giapponesi? Per quanto la risposta possa vertere verso l'anglosassone o almeno così è per me, ultimamente si sta vedendo un rialzo dei prezzi anche per le lingue asiatiche quindi se avrete la possibilità date un'occhiata al mercato orientale per reperire dei box anche dei primissimi set. O se vorrete dedicare la vostra attenzione agli starter perché no aprirete un'ulteriore porta a disposizione del collezionista con la loro tipica numerazione laterale sono certo che faranno una bellissima figura se esposti di taglio proprio come un manga sugli scaffali della vostra libreria personale. In descrizione come sempre vi lascerò il link a Fantasia Store dove potrete trovare nella sezione dedicata proprio a One Piece alcuni prodotti che stuzzicheranno la vostra attenzione. Calcolando anche che con l'arrivo delle premium collection e addirittura la presenza dei frutti del diavolo che vedranno quello di Ace essere protagonista del volume 2 la lista di articoli da tenere ben chiusi aumenterà esponenzialmente mese dopo mese dandovi molta più possibilità di scelta. Per quanto riguarda invece le collezioni di carte singole starà a voi decidere quale espansione prendere in esame o magari concentrare le attenzioni tutte su un singolo personaggio. Lì spetterà il vostro metro di giudizio quindi non mi addentrerò nello specifico ma se proprio devo consigliarvi settatevi sui primi set come Romance Dawn o Paramount War o uno dei protagonisti della saga come Luffy nelle sue innumerevoli versioni Shanks o Ace ad esempio. Quindi prima di concludere di opzioni da selezionare ce ne saranno a Iosa e ancora ce ne sono lì fuori da qualche parte nella rotta maggiore che devono essere scoperte e se ne avrete in mente qualcuna vi invito a scriverla nei commenti così da fornire un valore aggiunto al servizio dell'intera community. Perciò cosa state aspettando aspiranti re dei pirati? Il mare vi chiama e sta attendendo solo una vostra risposta e con i punti di attracco forniti in questo contenuto potrete dare inizio al viaggio che vi vedrà protagonisti di una storia indimenticabile nel meraviglioso mondo del TCG a tema piratesco. E voi come avete iniziato a muovere i primi passi nel GCC basato sul capolavoro del maestro Oda? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.